Ridurre la propria impronta sull'ambiente è uno degli obiettivi che hanno i nostri clienti e l'obiettivo che noi abbiamo è quello di aiutare i nostri clienti a raggiungere questo ambizioso risultato. Lo abbiamo fatto in questi ultimi mesi proponendo ai clienti energia elettrica da fonti rinnovabili, proponendo gas ad emissioni compensate, quindi senza pesare sull'impatto ambientale. Lo facciamo oggi con una nuova proposta, la proposta dell'installazione di pannelli fotovoltaici. Perché questo? Perché abbiamo capito che molti clienti hanno il desiderio di fare qualcosa in più, di produrre autonomamente energia utilizzando il sole, quindi energia rinnovabile, senza impatto sull'ambiente, ma si trovano in grande difficoltà relativamente alle complessità tecniche, amministrative e fiscali. Noi lo facciamo con una proposta semplice, chiave in mano, che dà la possibilità di avere direttamente lo sconto in fattura e la possibilità di avere una rateizzazione del restante importo corrispondente al periodo nel quale si ottengono gli risparmi energetici. Quindi una proposta che fa bene al portafoglio e fa bene soprattutto all'ambiente che lanciamo per i nostri clienti.